Va bene. Allora, le argomentazioni delle proposte in gioco sono molto complesse. Abbiamo sentito interventi delle opposizioni più o meno a tema, più che altro fuori tema. Sulla proposta 162, ovvero sul bilancio, mi preme solo dire che questo è un bilancio equilibrato. È stato presentato nei tempi previsti per la prima volta, prevede investimenti importanti per la città. Ci sono 1 miliardo e 120 milioni di investimenti e non bastano le illazioni e gli attacchi contro gli uffici per poca efficienza. La macchina amministrativa non arriva mai a produrre il 100% degli investimenti e portarli a compimento. Quindi non è giusto che venga attaccata la macchina amministrativa che sta compiendo uno sforzo importante. Ci sono importanti opere di mobilità e sono opere che proseguono il risanamento iniziato in questi due anni. La sindaca ne ha parlato approfonditamente, anche l'assessore Gatta, anche la presidente Agnello e anche l'assessore Lemmetti. Non vi dilungo su questo, noi ci preme solo dire che investiamo nel futuro di Roma Capitale con questo importante passo avanti, che proseguirà negli anni avanti con gli investimenti, acquisto di autobus, mobilità. Quanto poco era stato fatto dall'amministrazione precedente, tanto faremo noi di più negli anni successivi. Passando invece alla proposta numero 161, come ho detto in commissione e sottolineato anche dal consigliere Peronzi, c'è stato un percorso irrituale quest'anno. Gli uffici hanno ritenuto che ci dovesse essere un diverso percorso, quindi che la Giunta dovesse esprimersi nel dettaglio dei servizi a domanda individuale e che l'Aula dovesse intervenire sugli indirizzi. Noi ci siamo confrontati con gli uffici, abbiamo accettato questo percorso e io stesso ho presentato un emendamento per un lavoro importante fatto insieme all'assessore Cafarotti in merito alle associazioni di gestione dei servizi nei mercati, le AGS. Ed ecco, nel 2017 noi a fronte di problematiche nella gestione di questi fondi abbiamo portato questi abbattimenti delle tariffe al 50%. Abbiamo ribadito con una mozione, la 231, che in virtù di un percorso molto approfondito fatto con i presidenti delle AGS e con l'associazione di categoria, noi nel 2019 ripartiamo con un abbattimento del 65%, quindi consegneremo più fondi ai mercati per poter continuare e proseguire nel lavoro fatto. Ci sarà anche un meccanismo di premialità negli anni successivi che permetterà di premiare le AGS virtuose e di affidargli fonti maggiori per la gestione, manutenzione ordinaria, vigilanza, guardiania dei mercati. I posteggi rimasti liberi verranno messi a bando e già in parte sono stati messi a bando e puntiamo su somministrazione e consumo sul posto come leve importanti per il rilancio. Abbiamo ribadito che l'importanza sociale e commerciale dei mercati deve andare di pari passo, li stiamo rilanciando in questo modo. Purtroppo nel passato erano divenuti oggetto di desideri di costruttori e imprenditori per finalità diverse. Noi voltiamo pagina e puntiamo a un rapporto stretto con l'associazione di gestione e a un rilancio vero perché i mercati sono servizi per i cittadini e sono lavoro per molte famiglie. Quindi siamo contenti di questo rapporto importante, trasparente e sincero che porterà beneficio a tutta la cittadinanza. Vogliamo ribadire quindi che crediamo nei mercati e nel valore delle AGS. Ora mi spiace aprire invece una parentesi sulla proposta numero 160, un pochino delicata insomma. Il piano finanziario di Ama è strettamente connesso al contratto di servizio, contratto di servizio che è allo studio e deve essere rivisto. Ora noi siamo qui nominati dai cittadini per migliorare la situazione dei rifiuti e per risordere lo stallo di un sistema malato. Dopo una guerra sleale della regione sulla pelle dei cittadini, Zingaretti è stato condannato due volte dal TAR perché la regione era inadempiente rispetto alle prescrizioni di individuare la rete integrata e adeguata per impianti di invaltimento dei rifiuti in ambito regionale. Ci chiediamo se questo stallo fosse voluto o se fosse semplice incapacità di azione magari per non creare scontento nei cittadini per individuare delle aree che naturalmente sarebbero state malvolute dai residenti. Ora al di là delle colpe però di Zingaretti e della regione questa amministrazione deve fare una riflessione. Dobbiamo onestamente riconoscere che nonostante un piano sfidante e innovativo il problema rimane. il problema rimane. E quindi quanto diceva anche il consigliere Borsetti è vero è vero uno spazzamento poco frequente e di scarsa qualità richiede azioni forti la raccolta risente di molteplici fattori che la influenzano negativamente le utenze non domestiche partenza con grandi difficoltà e ritardo i contenitori non sono a norma la normativa in materia di igiene non è rispettata bisogna agire meglio su questo va effettuato il controllo della frequenza dei passaggi abbiamo suggerito un protocollo con l'associazione di categoria del commercio che doveva essere pensato a priori e che tarda a partire ci vuole più controllo per la sicurezza sui mezzi che si guastano troppo spesso e sugli impianti che non sono sorvegliati adeguatamente e nei quali accadono fatti criminali nell'incendio del TMB salario ci sono responsabilità dirette e indirette chi ha permesso che l'area non fosse vigilata ha una responsabilità indiretta nella vicenda ricordo un'altra vicenda a giugno 2018 le marmitte di circa una ventina di mezzi furono smontate ed i serbatoi svuotati chi sono i responsabili? sono stati individuati? non bisogna cedere al ricatto malavitoso di chi vuole alimentare un sistema rifiuti mafioso ma si deve trovare il modo per poter assicurare una raccolta frequente costante dignitosa che garantisca una città pulita questa amministrazione pretende che si trovino i responsabili di queste azioni criminali e vengano assicurati alla giustizia non doveva succedere non può e non deve più succedere tutti devono fare la propria parte la di Bagnacani deve individuare tutte le responsabilità e individuare adeguate azioni per evitare il ripetersi di questi fatti e per trovare chi è responsabile di quelli accaduti la dirigenza dell'azienda deve dimostrare la propria capacità gestionale prendersi le proprie responsabilità e richiamare alle proprie tutti i lavoratori i lavoratori devono comprendere che la percezione della qualità del lavoro dell'azienda è la visione dei cittadini che come fruitori hanno una percezione chiara e diretta dei servizi resi i cittadini devono comprendere che per la risoluzione delle problematiche c'è bisogno di collaborazione anche nei periodi di sofferenza della raccolta ogni lavoratore ogni cittadino che partecipa è una vittoria è un passo avanti verso una città più purita e decorosa e quindi cittadini romani Roma ci chiama chiama Roma deve darsi da fare grazie grazie a tutti